Quest'oggi parliamo di spread, un termine che sta a significare differenziale, in sostanza soprattutto usato in termini di misurazione del differenziale sugli interessi bancari, che oggi è tornato di grande attualità perché purtroppo lo spread, cioè il differenziale tra i titoli di Stato tedeschi e i titoli di Stati italiani sta tornando a livelli molto inferiori rispetto a quelli di qualche anno fa, ma oggi nuovamente purtroppo in crescita e nuovamente purtroppo preoccupanti. Parliamo di circa due punti base di differenza tra il costo dell'indebitamento per lo Stato tedesco e il costo dell'indebitamento per lo Stato italiano. Questo costo tra l'altro si va a sommare ad una base che è data dal costo dell'indebitamento determinato dalle politiche economiche della BCE che anch'esse negli ultimi tempi sono sempre più in salita, tendenti cioè a fissare dei tassi maggiori per cercare di frenare l'inflazione. Tradotto tutto questo cosa significa? E lo abbiamo appurato anche nei giorni scorsi leggendo la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria, questo significa che nei prossimi anni lo Stato italiano spenderà sempre più soldi per il servizio al proprio debito e questo ammontare che ormai sta sfiorando, anzi superando i 100 miliardi di euro all'anno, quindi pari a circa il 4,5-4,6% del nostro prodotto interno lordo, è un ammontare che andiamo a sottrarre naturalmente ad altre forme di investimento e ad altri settori che ne avrebbero bisogno a partire dalla sanità o dalla stessa istruzione. Tenete conto che appunto per l'istruzione lo Stato italiano oggi paga grosso modo quello che paga per interessi sul proprio debito, ma questo è il prodotto ovviamente del fatto di avere un debito pubblico elevatissimo che ci trasciniamo ormai da tantissimi anni, unito poi a un tasso di interesse che è ripreso e che è diventato sempre più elevato e che è molto diverso rispetto a quello che pagano i nostri concorrenti europei. La spesa su interessi di Francia, Spagna, Germania, della stessa Grecia è di molto inferiore rispetto a quella che paga l'Italia in rapporto al proprio prodotto interno lordo. Dopodiché questo tradotto per la piccola impresa, per l'impresa in generale, cosa significa? Significa che anche essa quando va in banca si vede richiedere per finanziare i propri investimenti dei tassi sempre più crescenti e che oggi mettono in seria difficoltà la tenuta anche dei programmi dei propri investimenti. E quindi un tema molto caldo per l'impresa, nuovamente purtroppo quello del rapporto con il mondo bancario e di come riuscire a finanziare la propria attività ed i propri investimenti. Ed un tema sul quale anche noi siamo costantemente interessati ad accompagnare le nostre imprese, mettendo loro a disposizione le nostre esperienze e i nostri esperti, in particolare il nostro consorzio FIDI che oggi torna ad essere uno strumento molto importante, molto valido a sostegno della piccola impresa e al quale invitiamo naturalmente a rivolgersi.